Alessandro Franceschini, Gerardi, Svicità di Castello, Sora è superata, ora qual è l'ostacolo verso questa salita in Serie 1? L'ostacolo credo sia ogni partita, nel senso che ogni partita ha una storia a sé, quindi noi guardiamo di partita in partita come dalla prima di campionato. Non ci aspettavamo tutto questo, penso nessuno, onestamente, perché sentiamo parlare di grande squadra, grandi nomi, ora che uno è primo allora è più facile dirlo, ma in realtà siamo partiti con umiltà e credo sia stata fatta una bella squadra, il merito va molto a Valdemaro, Radici, però credo anche che ci sia una componente di fortuna, che conta tanto quando uno mette insieme tante teste, ci siamo ritrovati molto bene, tutti bravi ragazzi, non c'è uno che sovrasta l'altro, è piacevole, quindi allenarsi così è tutto più facile. Parliamo della gara contro Sora, vi aspettavate una battaglia sportiva, passami il termine, così è stato, però Città di Castello ha saputo superare anche l'enorme pressione psicologica del pubblico di Sora? Sì, diciamo che la partita è stata molto bella da vedere perché fin dall'inizio ci sono state azioni lunghe, punto su punto, è stata veramente una bella partita. Dico la verità, mi aspettavo forse un po' più di difficoltà data dal pubblico, invece così non è stato, abbiamo incontrato campi come per esempio Ortona, molto più difficili, come entusiasmo, io mi aspettavo un entusiasmo molto più grande anche perché per loro era una partita diciamo importantissima, anche per noi, ma alla luce del fatto della loro precedente sconfitta era un dentro fuori, mettiamola così. E mi aspettavo qualcosa di più da parte del pubblico. I giocatori loro hanno giocato bene, però bisogna ammettere che quando noi giochiamo al massimo c'è poco da fare. Vediamo se sei preparato, prossimo turno contro? Corigliano. Altro ostacolo, ma a questo punto lo possiamo dire, il Mortirolo lo abbiamo superato, ora c'è da non farsi male in discesa Alessandro. Sì, è vero. Diciamo che poi ci sono due ragazzi che tornano a giocare a Castello, quindi la partita dell'ex è sempre una partita un po' particolare. O uno fa una grande partita o una pessima partita, non ci sono mai le vie di mezzo, quindi ci sarà una discreta attenzione da parte nostra e anche del pubblico, immagino, nella gara. Poi non ci dimentichiamo che è un'infrasettimanale alle otto e mezzo, quindi ci sono degli ostacoli anche su questa partita da dover superare sia mentali che fisici, però ora conta tanto starci con la testa e più che con il fisico quasi. Città di Castello farà la corsa su Città di Castello, è giusto? Sì, diciamo di sì, anche perché ora non ci nascondiamo dietro a un dito e tutto lo è nelle nostre mani. Forse lo è stato fin dalla partita contro Ortona, perché eravamo pari merito e da lì siamo andati via, però sì, dipende da noi ora, non ce lo nascondiamo.